come hai fatto a fare tutto questo in poco è buonissimo secondo me buono 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 vediamo questo notte che lo stanno facendo come c***o è quello lì ok non lo sto facendo ma cos'è vediamo beh dai addio la verità è un po carino devo dire bello questo è il visitore terzo sono terzo incredibile no 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 non ci credo terzo che fortuna vabbè ragazzi per questo video è tutto ci vediamo in un prossimo video mamma mia ciao ciao